Ragazzi, puntata epica! Io direi che per questo video almeno 5.000 like si possono mettere, giusto? Guardate il video e poi capirete il perché. Combattimento epico! Ciao a tutti ragazzi, sono Luke e benvenuti ritrovati nella Mad Pack 3. Beh, oggi andremo ad affrontare il boss dell'overworld. Allora, ho pulito un po', ho usato i teschi per coprire un po' di lava, eccetera, eccetera, bla 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 bla. Abbiamo tutta la roba che abbiamo trovato nel castello e possiamo finalmente andare. Allora, dobbiamo prendere questo qui. Purtroppo non posso più tornare indietro finché non batto il boss. Allora, che succede ragazzi? Non ho mele, non ho mele d'oro, non ho nulla. E rischio molto, ho preso tutta l'attrezzatura che posso usare per picchiare l'ambaradam. Per esempio, usiamo, non lo so, questo qua, vedremo. Ok. E, che volevo dire? Niente, attiviamolo. Attiviamolo. Ci mangiamo un coso, un tronchi qua. Ci mangiamo un tronchi. L'unica cosa buona è che possiamo volare ragazzi. Per cui vi ricordo che oggi alle 17 sarò in live. Come tutti i giorni, link in descrizione di Hitbox, cercatelo. E venite a trovare in live. E vi ricordo come sempre, un bel like. Andiamo! Oh, oh. Oh, oh. My. God. Ah, 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 ah. È soridio. Dobbiamo picchiarlo così. Vediamo un po' se... Forse volando. Mamma! Non gli facciamo niente. Con questa? Oh, beh, un po' di danno ne facciamo. Dobbiamo provare tutto ragazzi, per vedere con quale facciamo più danno. Oh, questo rompe. Questo? Un po' di danno sì, però rompiamo. Poi proviamo questo qua. Oh, nella lava. Sì. Sì, sì. Qualcosa li facciamo. Bella anche la musica ragazzi, sperando non sia copyright. Qualcosa li facciamo. Dov'è, dov'è? Lo so che volando è molto più semplice, lo so raga. Però, con questo non ne facevo nulla. No, nulla. Questo qua. Oh, vieni qua. Eh. No, questo l'ho già provato. Questo qua. Oh. E' la madoschia. Eh, beccarlo almeno. Non riesco a vedere se li faccio danno. No. Pochissimo danno. Spara raffica, ma pochissimo danno. Ma la termino tanto. Dai, dai, dai. Bauscia, dai! Quanta vita c'ha. Sono curioso di andare a vedere quanta vita c'ha. Vediamo un po'. Se riusciamo a spottarlo. No, non fa danno sto coso. Non si shottono anche loro. Ma è infinito, ragazzi. E' infinito sto coso. Boh, basta. Finito. Finish. Allora. Con questo li allontano. Perfetto, guardate. Li tengo lontani. Vai, go, go. Spacchiamo tutto. Quanta vita c'ha sto coso. La lancia frecce... Boh, che demoliscono. Stop hiding. Dai, dai, che sta crepando, dai. Però sono curioso di vedere quanta vita ha. Vediamo un po'. Se riusciamo a metterlo nell'angolo. Oh. Non mi dice quanta vita. Vabbè, così, finché non terminiamo, possiamo killarlo. Vorrei provare di spada, ragazzi. Con la spada. Oh. Beh, forse un po' di più con la spada glielo facciamo, dai. Dai, dai. Go, go, go. Go. Eh, vabbè. Dentro è entrato. Allontanatevi. Vai, sì, nella la... Guarda, bravo, bravo, bravo. No, lì è pericoloso. Allora, esci. 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 Ma uscia. Bravo, bravo. Eh, vabbè, vabbè, torni lì. Io ho paura che mi faccia cadere, capito? Ma sei buggato? C'è una cosa. Togliamo un attimo l'anello. Ok, avvicinatevi. Lì, chigliamo un attimo. Oh. Oh, là. Certo, certo. Oh. Oh, aspetta, che sto morendo. Ok. Quanta full abbiamo? Sessantadue. Oh, oh, oh. Solamente uno consumato. Allora, vieni qua. Vieni qua. Vieni qua, bauscino. Certo, certo. Rimane così, eh. Rimane così ancora un po'. Dov'è? Bravo, rimane così, rimane così. Fermo. Cazzo, gridi! Quanta vita? Non riesco a vederla, cacchio. 3000 di vita! Così li tolgo... Eh, un bel po', quasi 10. Li tolgo dai 9 ai 10 alla volta, ok. Bello è. Compicchiamo il ritmo di musica. Go, go, go! Mi ricordo, ragazzi, meno male che ho fatto l'anello, eh. Sennò col cacchio lo battevamo, sto coso. Ma non mi viaggia. Dai, stai fermo. Con questo quanto li tolgo? Eh, neanche lo becco. Aia! Fa male, però, eh. Go. Dai. Dai, 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 dai. Piccolo problema, ragazzi. Sto per terminare la spada e lui ha 500 di vita ancora. Dai, dai. Sì, manca poco, manca poco. Ho 90 utilizzi, 400 di vita. Allora, 80 utilizzi. Lui, però, perde 10 alla volta. Oh! Attenzione! Colpo di scena! Colpo di scena, signori. Vola pure lui. Eeeh! E il combattimento diventa più figo, signori. Dai, spara. Spara. Lo sto colpendo. Sto spaccando tutto, eh. Oh, posso rilanciargliere. Perfetto. Come il ghast. No, è uscito fuori. È uscito fuori dai ganghi, di questo qua. Eeeh! Sta scappando. Sta scappando. Aspetta un po'. Mamma! Questo ha fatto male, eh. Forse, ragazzi, il boss più impegnativo che ho incontrato finora. Che ne dite? È anche, magari, più carino esteticamente. No, però, ritornare qua, bello. Perché se io ti killo, il drop te lo lanci. Eeeh, no, torna giù, torna giù. Vieni qua, vieni, vieni qua. No, non volare via, dai. Dai, vieni qua. T'ho fatto male? Fatta iaiai? Fatta iaiai, amico. No, devi dire qua. Perché tu puoi cadere tutto giù. Eh, raga. Perché qua, guardate, è mondo aperto. Però è vuoto sotto. Aiaa! Se questo ha fatto male. No, devi dire qua. Madonna, raga, ho finito i cosi della rigenerazione. Qua c'è una cesta. Bella, madonna, scusa. Non lo faccio più. Dove è andato? Dai, 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 crepa, crepa, crepa. Non gli faccio niente. Ah, ok. No! No! Torna su, wow! Wow! No, vedi, io là non posso killarti. Entrare qua, eh, amico. Devi dire qua sopra. Devi dire qua sopra. Da uomo a uomo. Sul tetto. Dai! Se hai le palle, vieni sul tetto. Guarda che bastino. Non ti posso uccidere lì, dai! Devi dire qua. Stop hiding, vieni qua. Bravo, vieni sul tetto, vieni. Ragioniamo tra me e me. Dai, vieni qua. No! Ma che bastino, eh. No! Devi dire qua, sul tetto. Sul tetto. 8 ore di video mi sto uscendo. Vieni sul tetto. Perché se hai detto il killo, il drop dove lo lanci? Eh, vabbè, non hai capito un cazzo, allora. Devi dire qua, devi dire... Oh, vieni qua. Dai. Oh, bravo, stai lì in mezzo, eh. Stai lì al centro, bravissimo. Oh, 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 oh. Alto lì. No, no, stai giù. Stai giù. Eh! Che cazzo? È qua dentro? Guarda dov'è. Cazzo ridi. Dovrei avere il piccone. Vabbè, raga, ma a GG, però, eh. GG è sto boss, raga. Dai. Buono. Vieni qua. Dai, che sei qua dentro. Vieni qua. Baussino. Ma così? Non rompo le cose? Sì, mi faccio male da solo, però. Dai, dai. Dai. Non puoi scappare adesso. Oh, 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 oh. Ha richiuso ancora. Buono. Che cacchio c'è qua dentro? C'è un'orgia qua dentro. Rompiti. Ragazzi, non so se avete notato. Quelli sono spi... Spuntoni. Non so se lo sto beccando. Non mi recupero la vita, ragazzi. Eh, calla. Ragazzi, non mi recupero la vita. Ma che sta succedendo là dentro? Oh, 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 oh. Stanno uscendo spuntoni dappertutto. Ragazzi, il boss più pericoloso che abbia trovato finora. Non mi fa recuperare la vita. Perché? Sto anche terminando i piccoli di diamante Questo è un problema E meno male che mi sono portato un piccoli di diamante Cosa? Doppio strato? Questi qua sono pericolosissimi questi spuntoni Doppio strato Ragazzi io mi merito un pollice in su per questo episodio Dai C'è almeno il boss Bellissimo Bellissimo Ma il boss è ancora là dentro? Lo sto colpendo almeno Lo sto colpendo? Sì gli scende la vita certo Dai dai Io ho paura di quello che possa fare sto boss Ecco lì Dai 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 Guarda che gli genera vita guardalo L'ho messo in trappola L'ho messo in trappola Non ha altre utilità Qui c'è uno scheletro Muori Lo scheletro nero era addirittura Sto beccando Non lo sto più beccando Attenzione Uè 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 Aia Attenzione Cazzo spara questo No ricrepare Oh mi sta colpendo due me Sto morendo C'è quando lo colpisco mi faccio male Ah Bello così eh Bello così C'ha il coso Come si chiama? E crepare Se non crepa quello Cosa? Ma cosa? Ma cosa mi stai dicendo? Mi sono auto ucciso Guarda che mi sono preso ragazzi Caramel apple Di tutto di più mi sono preso Vai Allora Torniamo lì Dai però Ma non è possibile Ma adesso tutta la mia roba? Mi ha fatto la tomba Mi dite? Eh Porca boia Allora dov'era? Era Nella navetta E da qua dovrei entrare nel portale Che non mi fa entrare logicamente Perché? Cacchio mi sono portato blocchi Ora che ci penso Ok Ok Ora? Ah Porco Aspetta Ho il simbolo della morte Eccolo qua Wow Porca boia Uh Uh Attenzione Eh Dai porca boia Era questo Era questo Le miele le abbiamo L'anello Abbiamo tutto Abbiamo tutto Lui è rimasto in trappolino Ha ripreso tutta la vita Ha ripreso tutta la vita Attenzione Ok Era forse meglio Prenderci delle mele d'oro Non ci ho pensato Però abbiamo visto Che possiamo rimorire Dai E io non posso più Chiare sti cosi Allora Ok Se dobbiamo morire Moriamo qua A questo punto Io morirei Morirei E mi andrei a prendere Le mele d'oro Che ne pensate Eh Dai picchiamolo Ok Ok Ve l'ho preso Beh niente Allora Se possiamo continuare così Ok Eh vabbè E dove sono morto Come un pirna Li Voilà Ho fatto la mela d'oro Ragazzi E la super mela d'oro Vai Allora Questa qua era Cosa dà questa Ok Allora Direi di prendere queste qua Queste qua Allora Così Bam Ne vengono 37 Va benissimo 37 di queste Sono ottimo Un piccone giusto per Possiamo tornare lì Vai allora Ti Eccoci qua Attenzione Attenzione Oh aspetta aspetta E la bara No aspetta La bara Ah sono una cacca Ho perso la bara Ah no è lì è lì è lì La bara La tomba È lì è lì Ho mangiato la mela d'oro E mangi un'altra Se sto coso non si toglie Devo rompere quello Eh devo romperlo Fammelo rompere Come lo piccio sto coso io Farlo cadere giù È l'unica Non riesco a prenderlo Si è buggato Eh si è buggato tutto Si è buggato tutto Oh Ecco la roba Ok 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 Mi serve urgentemente l'anello Urgentemente l'anello Ma urgente Allora Anello 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 Eccolo Voilà Possiamo volare E ci mettiamo un attimo Al riparo Ok Possiamo andare a picchiare il boss Adesso Vediamo un po' Tu crepa Ok Oh sto morendo Perché è che muoio così in fretta Ok Ci siamo Ci siamo Eccolo là dentro Dai 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 Non riesco a prenderlo Però forse Così è meglio Eh no C'è sto coso davanti Che pasqua Forse era buono Prendere delle TNT Ragazzi Sapete Non è una brutta idea Delle TNT Dai perché Quasi rotto Dai Ok Eh Mi ha incastrato Mi ha incastrato Mi ha incastrato Vai Via Di qua È uscito Wow Uscito Buono Cioè buono mica tanto Ma adesso è potenziato Fammi capire È potenziato Sì E chi li fa male Chi li fa male Adesso E vabbè Ciao raga Non lo batterò mai più Sto boss io Non lo batterò mai più Bam Vieni qua Vieni qua Non gli faccio Nulla Ho finito la spada Ho finito la spada Aia Aia Via di qua Via di qua Torniamo sul tetto Zio No Io dovrei avere altre spade Infatti Ok Non gli faccio nulla Ma scherziamo 14.400 di vita Cosa Cosa Ragazzi Sono morto Ed è tornato Non o male È quasi morto Dai Dai su Dai pota È tornato Non o male Non so qual è il motivo Aveva 14.000 di vita Oh stai fermo Non ha più le ali Dai 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 Che sei morto No Nella lava no Nella lava no Mi serve il tuo drop Amico mio Mi serve il tuo drop Amico mio Aia Dai Oh bravo Bravissimo Qua dentro Sei un grande A stare qua dentro No 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 Se ne riesce Guarda Se ne riesce Oh si è fatto male da solo il pirla Dai Dai No non uscire Non uscire Ma sei un pirla Sei Dai che era quasi morto Ma qua c'è ancora la sua costruzione Vedi Non te l'andare via Vieni qua Non ci posso credere Si è rinchiuso ancora Si è rinchiuso Non volendo posso Volevo farlo dal basso Ma non posso Dall'alto scusatemi Facciamolo da qua Allora vai Muco Muco al centro Dai 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 Combattimento epico Ragazzi Epico Non so da quanto tempo Sono andavanti Aia Non so quanto Li sia rimasto di vita Comunque poco Comunque poco Dai Dai Sta ardendo Fire Vedi No Si è chiuso dentro Dai Rompiamo anche l'altro Lo ha fatto più piccolo Dentro il cubo Non ci credo Sta parlando Non so che sta dicendo Brutus Wack up Ma non c'è più dentro E' dentro Non capisco Si si Guarda che gli scende la vita Lo prendo Dai Dai Guarda Chi recupera vita Guardalo Oh 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 Ha chiuso ancora E' già Oh Non li tocco Stavolta Non li tocco E' uscito Uscito Buono Dai Guarda che ha messo la trappola Ui ui No 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 Tu no Non è quello che mi fa male Vero Crepa Crepa Per favore Per favore Aia Dai Crepa Ok 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 Eh Vaccavoia E' qua Buono Buono Ah questo mi faccio male da solo Aia aspetta aspetta Devo mangiare Però devo killarlo questo Eh Aia Mi faccio male Mi faccio male Lifesteal Come si chiama? Lifesteal? Ruba vita Una cosa del genere Aiutatemi nei commenti Quanta vita ha Oh Si Nice Nice Cosa mi ha dato? Una pettorina Ah Dai dai Pensiamo al boss Sta recuperando vita sta merda Sta recuperando vita Guarda lì Dai Ma non vale Porca boia Quasi aperto Dai Dai Un altro Eh Più piccolo di così Non può però eh Dai Ah Che spavento E ritorniamo a combattere Dai E ora cosa fai eh Ah Te ne vai in mezzo al nulla Ancora Bravo Bravo Certo Torna in mezzo Vieni qua sul tetto da uomo Vieni sul tetto Si è rinchiuso ancora Io lo faccio da sopra adesso Andiamo un po' Dai Si è rinchiuso ancora Raga ma è mortale sto coso Dai Dov'è? Lo prendo? Lo sto colpendo? Si 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 Sta recuperando ancora vita Ma guarda te Dai bombardamento incoming Dai 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 Sta recuperando vita Dov'è? Dov'è? Eccolo lì E' di là? Dai Sta morendo Sta morendo Guardalo 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 Ha chiuso ancora Dai Non ci posso credere Porca boia Ha chiuso Ma mi chiude la porta in faccia Ma non vale Sta recuperando vita Dai 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 che l'ho preso Dai che l'ho preso Veloce Dai uno dietro l'altro Dai 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 che stai crepando Stai crepando Stai crepando Ti manca un briciolo Ti manca un briciolo Ti manca un briciolo Dai 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 Crepa 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 No crepa Oh Ha crepato Wow Voglio vedere Che succede Che succede Wow Wow Non dico solamente Wow Dico solo Wow Ma il drop Ma il drop Scusate il drop Non ha droppato nulla Ehi amico Non hai droppato un cavolo Non ha droppato nulla ragazzi Ma ho fatto la quest Che mi da una crystal ball Con crystal ball Devoi si attacca Crystal ball Wow Fatta 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 la quest Del boss ragazzi Possiamo tornare a casa Aspetta Aspetta Ma io A casa Come torno Che è sta roba Che è sta roba Oh Wow 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 Dove sto Che succede Che succede Amico What fall Wow 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 Grazie a tutti